La filosofia come esercizio della libertà di pensiero per sviluppare senso critico e cercare percorsi individuali di felicità. Presentata questa mattina a San Domenico Maggiore la diciannovesima edizione del Festival della Filosofia in Magna Grecia che si terrà dal 18 al 22 aprile. Centro dell'iniziativa alcuni comuni del Cilento intorno all'area archeologica di Elea che fu sede dell'importante scuola presocratica di Parmenide e Zenone. È un progetto culturale nostro dove dal 2008 partecipano numerosissimi ragazzi da tutta Italia per vivere un'esperienza filosofica. Ritornare alle origini per noi significa questo, ritornare nel Lago Rà dove si può dissertare, dove ci si può confrontare, dove può nascere ancora la voglia di scoprire, di sperimentare. All'interno del Festival questo avviene, una sperimentazione continua proprio sul sentire e sull'essere. La Paideia, ovvero la formazione dei fanciulli, è il tema di questa edizione. Oltre alle lezioni il programma include laboratori filosofici, passeggiate filosofico-teatrali nel parco di Elea e nel borgo di Pollica e l'assegnazione del premio Parmenide. Degli itinerari a cui si alternano dei momenti teatrali che mettono in scena la tematica filosofica attraverso o monologhi o dialoghi o scene più complesse. Sono state fatte passeggiate filosofico-teatrali sull'Etna ultimamente, a Siracusa, in Metaponto, Matera, in Salento e in Cilento in particolare quest'anno per Paideia, quindi per l'edizione cilentana di aprile, verranno fatte nel borgo di Pollica e negli scavi archeologici di Velia. Il Festival si fa ambasciatore dell'amicizia tra Napoli e Atene, organizzando assieme al Comune di Napoli la giornata della grecità napoletana, che si svolgerà nell'ambito del maggio dei monumenti. Vorrei ricordare che quest'Europa di oggi sta tradendo le proprie radici, le radici filosofiche da cui è nata. È un'Europa in cui i governi alzano muri, stendono fili spinati, separano gli uomini, separano gli uomini attraverso le ingiustizie, le discriminazioni e offendendo ciò che la filosofia invece sostiene essere propria di ogni uomo, la dignità. Quindi in questo momento noi affidiamo a questa giovane Napoli, quella dei ragazzi dei nostri licei, alla giovane Italia, alla giovane Europa, il combattimento perché l'Europa ritorni alla propria autentica radice, alla propria autentica Costituzione che è appunto la Costituzione della libertà, della giustizia e della dignità.